Si è tenuto a Scigli l'atteso convegno su Quintino Cataudelli in segna letterata e gregista alla presenza del ministro della pubblica istruzione Valeria Fedeli, un'iniziativa promossa alla senatrice Venera Padua, che si è prodigliata per garantire la presenza all'esponente di governo. A margine del convegno, la Fedeli ha poi definito in proprio l'uso di telecamere e asidini ospizi con riferimento al recente episodio di maltrattamento in una struttura di modica. Sono in netto disaccordo con quanto dichiarato dal ministro, ha dichiarato l'onorevole Lino Minardo, lo vada a dire ai genitori dei bambini maltrattati piuttosto che ai parenti di disabili o anziani vittime di maltrattamenti, in quanto non sono più accettabili episodi di violenza nei confronti di questa persona. Per questo definisco impropria e quanto mai inopportuna la dichiarazione del ministro Fedeli. Su queste cose, rimarca ancora Minardo, deve esserci tolleranza zero a tutela prima di tutto dei bambini, disabili e anziani, a poi della stagante maggioranza degli insegnanti e degli operatori dei vari centri che svolgono con serietà il proprio lavoro. Al punto in cui siamo arrivati, conclude il parlamentare modicano, il fenomeno è diventato emergenza per cui il Parlamento non può più rimanere impantanato in una sterile dialettica improduttiva e inutile, per cui si mette a mano finalmente la legge ferma in Senato.